Ma chi è che sta bussando alla nostra porta? Cosa? Vinci? Ma chi è? Sono l'insegnante dell'AIT! Ma cosa ci fa in casa nostra? C'è l'insegnante dell'AIT in casa nostra! Dobbiamo scappare, forza! Dobbiamo scappare! Ci sta seguendo! Oh no, ci sta seguendo! Oh no, ci sta seguendo! Che ansia, che ansia! Cliccate qui sotto e guardate il video completo!